Ciao Manuel, volevo farti i complimenti per la tua collezione e per la sfilata, è stata veramente bellissima. Grazie mille. Tu sei la capostilista di tutte le linee di spazio, sei Parrot e chi sei? Le linee le disegni proprio tu? Ho molti aiutanti, c'è chi fa i disegni delle stampe, c'è chi fa i modelli, ci dividiamo i lavori. Mi dicono che tu sei un vulcano, che anche la domenica non riesci a smettere di lavorare, ma dove la prendi tutta questa energia? Non lo so, fammi una domanda di riserva. Il tuo buon gusto, è nato o sei figlia d'arte? Sono fatta da sola. Complimenti allora. Grazie.